Stop! 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 Cosa mi vuoi far provare Lore? Cioè tu mi hai chiamato così, non dovevo fare nulla Cioè io arrivo qua e tu mi dici Devi provare questa cosa assolutamente Ovviamente perché tu li hai mai fatti gli addominali una volta Seriamente nella vita Dove sono gli addominali? No, non li ho portati oggi Oggi ti farò vedere gli addominali per la prima volta nella tua vita Io voglio gli addominali in un minuto Vai Quanto ci vuole per avere addominali? Qua io l'ho usato a 5 minuti mi è venuto un male cane Allora, addominali in 5 minuti Esatto 5 minuti Ok, vediamo, vediamo No, no Sei tranquillo Un litro me ne hai messo Vabbè Mi hai visto addormentato, mi hai visto Cioè, raga Mi hai detto di provare questo prodotto che ti fa soffrire Ma quanto farà soffrire questo coso Abiflex Cioè, ma io posso avere parola di un Abiflex Ma che cos'è questa roba? Allora Allora, raga Ma voi non lo sapete Perché nel mio canale ho provato Allora, rompo questo se faccio così Eh no, infatti Ah, che stiamo facendo Ero nervoso Mi ha fatto bere 6 litri di caffè Allora Sandrino, Sandrino Io sono qui per soffrire Io sono qui per soffrire Oh, e a tutti Oh, e a tutti Però oggi soffrirò Cioè, a me che soffrirò Ma non posso Quanto è grande sto coso? C'è qualcosa dietro l'orecchio? Ok Oh, oh E' anche mago Attenzione, attenzione Allora, io ti spiego Ma sì, ma è cos'è Allora, la maglia io ti consiglio Ma, ragazzi Allora Se non avete 18 anni Non guardate perché I capezzoli Non guardateli Allora, un fisico così è la perfezione Comunque io non è che abbia bisogno Di far addominale E' un test per voi Se volete fare addominali Prendete questo Abiflex Del costo Quanto hai pagato questo Mark Ingegno qua? 70 euro 70 euro Poi nel suo canale Nel suo canale ha provato tantissime altre cose Però mi ha detto Prova questo Perché è devastante C'è anche la Lacrimina Ti ho paura Uno che ti fa vedere criminali Che ti fa Io Sai Abiflex 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 Non mi sta pagando, eh, professore Papua E' cattico Anzi, Abiflex Se vuoi darci 70 euro Almeno Lui Cioè, li dai a Lorenzo Abbiamo anche Anche 70 a me Capito, ok Comunque, l'ultima tecnologia EMS Per avere degli addominali più definiti Forti e sexy Mamma Sarò sexy da oggi Facile da usare solo 30-60 minuti al giorno Che comunque Allora io ti dico Se resisti già Un minuto e mezzo Ti pago la cena Fidati Allora, ragazzi Scrivete qua sotto Mettete Prima di tutto Secondo voi Se resisto più di un minuto e mezzo Scrivete Hashtag Sandro ce la fa Pure Hashtag Sandro non ce la fa E E Mi merito almeno per questa prova Per questa prova Mi merito almeno 1.000 like In questo preciso istante 1.000 like 1.000 like per la sofferenza Per essere più sexy Perché così Poi andate in estate Ma quanto sei sexy eh Ho visto il video di Sandrina Dove facevano vedere le cose sexy Per quello ho gli addominali sexy Il resto fa cagare Ma gli addominali Sono proprio sexy sexy Oh Aspetta, aspetta Aspetta un attimo Hai visto qua? Qua Questi fogli In questi fogli c'è scritto che La maggior parte delle persone che guarda questo video Non è iscritta Ti devi iscrivere, capito? Vai a fare queste cose così gratis Muoviti Guarda qua Raga, non ci sta il braccio nell'inquadratura Immaginate quanto è grosso Ti mimetizzi con il muro di dietro Se li metto così Non mi fai c***o Prendiamo la crema E devi spalmare sopra Metto un goccino ogni collo Da un goccino Facciamolo A testa o a pallino? Si, si, si A pallino Ok E devi spalmare poi Una volta messo questo Spalmiamo Il tutto Senti un po' l'esmer di questo Lo senti? Comparto? Ok Adesso ci sono delle impostazioni qua Ok Qua c'è un menu E ci sono delle varie stimolazioni Drambit Drambit Poi c'è Il più pesante qual è? Scramping Tutte parole accade Parole accade Senza un senso logico Stamattina crambit Cosa fai domani? E domani c'ho crambit Ma dov'è? Perché oggi ho fatto drambit E domani faccio crambit Quindi devo preoccupare Il livello 2 Che è un po' quello che si sente il più Senti qualcosa? Io già un po' sento qua Si che mi sta un po' Un po' Allora guardate Esattamente qua Farei uno zoom Allora Ti blocca l'anima Quanto siamo? Potenza 3 Potenza 3 ragazzi Mi pare ci sia potenza fino a 50 Fino a 50 Ma è illegale questa cosa Aspetta Potenza quanto? Siamo a potenza 3 C'è fino a potenza 5 Ma è figato Ragazzi ti tira l'anima Noo bellissimo Noo bellissimo Vai aumentiamo Sei? Io ci sono Sei pronto? Si No di quanto è? Quanto è? 12 Oh mio dio Potenza lenti Bellissimo Ma dov'è andata al posto? Noo Dove è possibile? Io adesso gliel'ho stoppato Se no Sandrino vuole Stavo saltando 12 No raga 22 adesso No 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 Tieni la camera che cade sicuro Cade No No adesso Allora Facciamo un test rapido ragazzi Allora Siamo arrivati al massimo a 22 Siamo arrivati a 22 Dovremmo arrivare al massimo Proviamo un 50 Un 50 Un 50 Un 50 ragazzi Lo faccio per voi Voglio un mille like Per voi Fighteremointay 50 Siamo che sta giocando a xbox Siamo arrivati a 70 Stopp Porco 2 Male No no raga È una cosa No 70 te lo giuro Questo qua Era 70 5 Ragazzi No è impressionante Assurdo vero? Ma questa merda non la voglio più va a fare Stava spostando tutto il partito questo Stai a cuccia Vai la guglielmo C'è qua stiamo lavorando noi possiamo stare Vai a casa in Guarda